Per molti la verità è una soltanto. Aldo Moro fu rapito e ucciso dalle Brigate Rosse. Eppure, nei giorni che precedettero la morte del presidente della democrazia cristiana, ci sono tante cose che non tornano. Ad esempio, si fa fatica a spiegarsi come le BR da sole siano riuscite a gestire il sequestro di un personaggio di quel calibro. Si è inoltre parlato di strane presenze in via Fani. Tutti questi dubbi hanno spinto il vicepresidente del gruppo PD alla Camera, Gero Grassi, a promuovere una commissione d'inchiesta parlamentare sul cosiddetto caso Moro. Nuovi approfondimenti e alcuni documenti ufficiali, fino a poco tempo fa inaccessibili, pian piano stanno facendo venire a galla la verità, è stato detto durante un incontro organizzato a Esernia. So chi stava in via Fani e non c'erano solo le Brigate Rosse. So che Moro fu abbandonato da tutti, dallo Stato, dai partiti, dalla magistratura, dal giornalismo. So che nel rapimento Moro ci sono tracce pesanti della CIA, del KGB, del Mossad, della mafia, dell'Andrangheta, della Camorra. Credo di poter dire che materialmente chi sparò non era delle Brigate Rosse. Però noi stiamo lavorando da un anno e mezzo, rispetto al punto di partenza abbiamo oggi tante verità. Arrivare a capire chi abbia voluto la morte di Moro non sarà tuttavia facile. Certo è che lo statista democristiano era un personaggio scomodo, che dava fastidio anche nello scacchiere della politica internazionale. Era scomodo per due motivi. Uno del quale non si parla mai. Voleva un'Europa che fosse terza rispetto all'Unione Sovietica e agli Stati Uniti. E due, nel 1976-77, quindi parliamo di preistoria, voleva spostare i comunisti da Mosca in Europa per far sì che l'Italia fosse un paese normale con una democrazia compiuta. non è poco nel 1976. C'era la grande influenza della P2, di Licio Gelli, c'erano servizi segreti che erano ancora la prosecuzione di quelli fascisti, c'era il muro di Berlino, c'era Gialta. In quel contesto uno come Moro era fortemente scomodo.